Tassi di interessi altissimi che rappresenterebbero usura, gli aguzzini però questa volta sarebbero gli stessi istituti di credito. Due ragusani hanno denunciato infatti un caso di presunto usura bancaria alla procura, tramite il loro legale rappresentante Fabrizio Cavallo. Un fenomeno, quello degli istituti di credito senza scrupoli che impongono tassi di interesse oltre la soglia consentita del 30%. Ben noto al legislatore, tanto che il reato di usura bancaria è stato riconosciuto dall'articolo 644 del codice penale. Le denunce, secondo l'avvocato Cavallo, si potrebbero estendere a macchia d'olio. Intanto il sostituto procuratore Gaetano Scollo ha richiesto la procedura immediata dell'incidente probatorio fra cliente e banche per la perizia che accerterà l'eventuale illegittimità dei tassi di interesse. Inoltre il PM ha accolto la richiesta dell'avvocato Cavallo di sospendere l'esecuzione immobiliare che era scattata su una delle abitazioni dei denuncianti. Intanto nel nostro territorio non si ferma il fenomeno delle vendite all'asta, solo ieri l'ultimo caso di esproprio nella zona industriale di Modica. Le forze dell'ordine hanno infatti svolto un servizio di ordine pubblico in occasione del rilascio di un capannone già venduto all'asta. Le operazioni di rilascio dell'immobile si sono svolte senza criticità e il personale Digosi insieme all'ufficiale giudiziario ha potuto procedere all'immissione in possesso in favore del custode giudiziario.